Buongiorno a tutti, datemi conferma audio, cortesemente. Ben ritrovati al nostro appuntamento, al nostro webinar delle ore 9. Abbiamo davanti l'apertura del DAX, come vedete, una situazione ancora abbastanza laterale, dove comunque ovviamente continuiamo a preferire le operazioni al ribasso. Ok, ieri vi eravate lasciati con il mio collega Martinelli, con una situazione piuttosto interessante, dove eravamo giunti proprio a questo livello qui, di 10.700, correzione fino ai 10.750, con chiusura quasi sul massimo di giornata. E ancora una volta che su questo livello qui ci dà una situazione piuttosto interessante per continuare a shortare un po' l'indice. Vi ricordo i livelli che stiamo utilizzando attualmente per massimizzare un po' la nostra strategia, continuano ad essere, lo vediamo magari in H1, eccole qui, proprio il livello di 10.600 e il livello di 10.770, ok? Quindi sono 170 punti, più o meno, dove ci muoviamo. Ovviamente sui livelli di 10.770, 10.750, sono ovviamente i livelli su cui poter effettuare le nostre entrate al ribasso. Lunedì avete visto come ha funzionato anche abbastanza bene il livello di 10.600, funzionato molto molto bene per quanto riguarda le operazioni di acquisto e in questo momento qui continuiamo dunque a rimanere comunque short sul mercato, ok? Per chi volesse inserire un unico, vista la situazione di mercato, un unico stop loss e non avesse colto questo livello di 10.750, ovviamente in base anche alle sites con cui effettua gli ingressi, io personalmente lo inserirei proprio sui 10.770. Però sotto questo punto di vista voglio, vi lascio comunque sempre una discrezione per chi magari volesse approfittare un po' del, del, di una sites un po' più elevata, ovviamente in questo caso qui possiamo tranquillamente mettere uno stop direttamente sul massimo di questa bella candela oraria 10.727, ok? Possiamo mettere tranquillamente il livello di stop qui o addirittura anche qualche punto più in altro e cercare di far correre un po' la posizione, stiamo vedendo un attimino che ci sta rompendo un po' il minimo proprio di ieri e sotto questo punto di vista insomma potrebbe spingere abbastanza bene e cercare appunto di captare un po' anche una sessantina di punti, ok? Cerchiamo di farli correre queste posizioni qui, non dobbiamo aver paura perché fin quando rimane su questi livelli qui, su questa area qui di congestione sicuramente la cosa ci può favorire, dovete semplicemente stare attenti un po' alle varie sites che utilizzate, ok? Quindi sotto questo punto di vista insomma confermiamo un po' la view che stiamo avendo un po' dal lunedì scorso, ripetuta già mercoledì, poi giovedì e venerdì anche con la sessione di scalping che vi ho messo registrata e sotto questo punto di vista io personalmente questa situazione qui magari non vi consiglierei anche di non utilizzare tanto magari i grafici perché comunque i livelli sostanzialmente li avete, quindi non avete problema sotto questo punto di vista, ok? Vediamo un attimino se avete nel frattempo domande e curiosità, se vi è chiaro un po' la situazione. Alessandro dice ok, vediamo se qualcuno di voi ha delle curiosità in particolare. Vi faccio vedere ieri un po' lo scalping che ho fatto, vi faccio vedere. Proprio mentre Marco stava effettuando il webinar, aprivamo posizioni simultanee. Ultimamente sto utilizzando molto anche la MetaTrader, sto utilizzando. Ok, eccolo qui, un po' di scalping chiuso con un migliaio di euro chiuso. Ovviamente io qui, avendo comunque a disposizione 200.000 euro come capitale di partenza, ovviamente faccio entrate con delle sites rapportate al capitale che ho. Sotto questo punto di vista sto utilizzando la MetaTrader per fare delle prove su nuove tecniche di scalping e di spread scalping e devo dire che sta funzionando abbastanza bene. Ieri ho preso diverse situazioni proprio di spread scalping. quindi devo dire che sta veramente funzionando abbastanza bene. Ecco qui una piccola correzione, ritorniamo un po' sul minuto. Siamo ancora su 10.705, ovviamente 10.700 è un po' una zona ostica da poter utilizzare. Queste due posizioni che vedete le ho lasciate aperte tranquillamente da ieri, perché comunque fin quando non mi supera questo livello qui dei 10.770 comunque non mi creano particolari problemi. Sotto questo punto di vista, comunque rimaniamo ancora con posizioni al ribasso, d'accordo? Ci ha fatto già quasi una trentina di punti, in questo momento sta ritracciando di circa 10-15 punti, la partenza è piuttosto blanda e vi metterei un attimino in linea nel frattempo che magari preparate domande o comunque sia curiosità, così vediamo un attimino se nei prossimi minuti ci sarà o meno questa rottura di questo livello qui, quindi 10.700, scusate, ovviamente potete anche provare qualche soluzione al rialzo, però a questo livello qui, a questi livelli qui, vi consiglio di utilizzare un take profit piuttosto stretto. Certo che questa fase di congestione ci aiuta abbastanza, d'accordo? Ci aiuta. Leggo al volo un paio di domande, se rompe 10.600 dove potrebbe arrivare? Qualcuno chiede, potrebbe ovviamente innescare un processo ribassista piuttosto interessante, e sicuramente nel momento in cui viene rotta questa congestione, tanto a rialzo come a ribasso, comunque ci aspettiamo un movimento quantomeno doppio rispetto all'attuale congestione, considerate che in questo momento qui la congestione è all'incirca di 200 punti, il DAX si sta muovendo, lo vediamo, eccolo qui a livello daily, si sta muovendo proprio da 10.800, abbiamo come situazione di minimo 10.600 o giù di lì, quindi 200 punti ci aspettiamo quantomeno un movimento due volte e mezzo più grande rispetto all'attuale congestione, quindi circa un più o meno un 400-500 punti, quindi dal momento in cui viene rotta questa congestione vi potete anche addirittura pensare di prendere come obiettivo 500 punti dal mio punto di vista, perché comunque è una congestione che l'after Trump, vedete, già dura da diverso tempo, da una decina di giorni, quindi potrebbe essere da catalizzatore piuttosto importante, ovviamente abbiamo avuto ieri una situazione in cui gli indici americani sono andati a toccare massimi annuali, mi riferisco soprattutto all'SP500 che ha toccato la soglia di 2200, mentre il DAX è rimasto congestionato su questi due livelli qui, quindi probabilmente un po' di speculazione dietro il mercato americano sicuramente c'è. Qualcuno mi chiede che fare con Eurodollaro che ho acquistato, che ho in acquisto, andando purtroppo io sull'Eurodollaro in questo momento non lo sto visionando, quello che ti posso dire è che sicuramente continua anche l'Eurodollaro nella sua costante fase laterale, bisognerebbe capire più che altro i punti di acquisto e la size che hai utilizzato, io personalmente l'Eurodollaro non lo sto seguendo in maniera particolare. Gianluca chiede eventuale take profit in sell, dunque alla rottura di questi 10700 che come vedete sta avvenendo proprio in questo istante qui, ci sta provando, attualmente abbiamo 10700 netti, sicuramente io personalmente ho un obiettivo di una cinquantina di punti almeno, poi ovviamente cercate sempre di proporzionare stop loss e take profit. Abbiamo visto prima che un stop loss che possiamo avere qui magari è proprio su questo livello qui 10727, 10725 che sono circa attualmente quasi 25, una ventina di punti, quindi cercate comunque sempre di lavorare con un rapporto 1 a 2 sostanzialmente. Qualora ecco, già ci ha formato questo bel livello qui di 10710, ok, 10712, qualora ci dovesse rompere questo piccolissimo minimo che ha formato un minuto? Possiamo anche pretendere di portarci a casa un'operazione veloce di 10-15 punti, ok? Non fa niente se abbiamo il sell, entriamo in hedging, non vi preoccupate perché è assolutamente favorevole il mercato in questo momento qui sul discorso dell'edging e siamo a questo livello quindi 10.700 è il livello quasi del 50%, in questo momento siamo proprio sul 61.8, ok? Quindi non vi preoccupate se magari entrate sell e la posizione vi va un 10-15 punti in negativo perché sotto questo punto di vista, essendo una fase così laterale, possiamo tranquillamente utilizzare l'edging. Vedete adesso 10.712 come la forza che ha in questo momento alla rotura di questo piccolo livello, quindi sotto questo punto di vista, insomma, ecco perché vi dico cerchiamo anche di ottimizzare un po' questa fase qui laterale, quindi non c'è bisogno, potete tranquillamente utilizzare i vari hedging di copertura senza alcun problema, ok? ovviamente qualora ritornassimo proprio su questi livelli anche 10.730, anche questo livello qui 10.720 sicuramente è un livello molto più interessante da poter shortare, d'accordo? vi ricordo fino a 10.770 avete in mano l'opportunità di shortarlo, tutte le operazioni che fate in short hanno come rottura di questa congestione il livello di 10.800, quella rottura lì vi dice effettivamente che il trend riparte al rialzo, d'accordo? vedete come questa rottura di questo minimo qui vi ha prodotto, sta producendo circa una quindicina di punti, vedete? guardate come questa rottura di questo massimo qui, scusate, di questo piccolo massimo che ovviamente abbiamo captato un minuto, vi ha permesso comunque di visualizzare questa bella situazione, ok? vi lascio un attimino in linea, d'accordo? e ci vediamo, ci sentiamo tra pochissimo, vediamo un attimino come si sviluppa un po' insomma la situazione nei prossimi minuti, ora pochissimo grazie a tutti 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 bene, nel frattempo il DAX ci è ritornato un po' su zone piuttosto interessanti, quasi sul punto di apertura questo ci da altre buone buone opportunità sotto questo punto di vista ha fatto due candele a 5 minuti piuttosto interessanti, ha fatto, vediamo un attimino se ovviamente abbiamo l'opportunità di ricollocarci short su questi livelli ovviamente chi avesse inserito questo buy proprio a 10.712 di copertura già lo può finalizzare sono circa quasi una trentina di punti quindi sotto questo punto di vista chi avesse inserito questo buy proprio su quel massimo lì che abbiamo visto prima può chiudere tranquillamente la posizione ovviamente questi livelli 10.735 ci danno zone di vendita piuttosto interessanti quindi sotto questo punto di vista rientriamo un po' sul 23% di ritraggiamento quindi possiamo ricollocarci già da questi livelli qui d'accordo? quindi ecco perché è abbastanza importante anche utilizzare in questa fase equilaterale le situazioni di hedging attendiamo un po' se qualcuno di voi ha altre domande io nel frattempo vi leggo anche il nostro disclaimer qualunque parere, notizie ricerca, analisi prezzo o altro tipo di informazioni forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono consigli di investimento sono dati con finalità educative in ambiente demo ok? XTB non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno vediamo un attimino se avete qualche altra domanda vedo di no perfetto ci aggiorniamo alle 14.15 ovviamente ulteriori aggiornamenti sull'operatività per quanto riguarda il DAX li daremo anche su tradebit.it 14.15 c'è live trading ok? per qualsiasi domanda qualsiasi informazione potete scrivermi alla mia mail andrea.dimarco.xb.it io vi ringrazio per essere stati questa mezz'oretta in linea con me e vi auguro una buona giornata e ovviamente un buon trading бр Però yeah io vi auguro un buon interessante ho choppies voi credo io vi auguro un buon ti metti qui Grazie a tutti.